Swyte ti permette di formattare il testo, aggiungere un collegamento oppure nascondere una parte della sezione senza disattivarla. Una volta logato a Swyte, accedi alla gestione del sito. Clicca su Modifica sito. Posiziona il cursore sulla sezione che vuoi modificare. Cliccaci sopra e digita o incolla il testo. Poi conferma cliccando sull'icona della spunta. Oltre a cambiare il nome di una sezione, puoi anche scegliere di formattare il testo, aggiungere un collegamento o nascondere una parte della sezione senza disattivarla. Ricorda di confermare sempre le modifiche cliccando sull'icona della spunta. Per ogni testo presente nell'area di modifica, puoi visualizzare la sorgente del testo stesso, ovvero da dove il testo è stato recuperato. L'icona Matita indica che il testo è stato personalizzato. L'icona Social indica che il testo è stato importato dal social collegato a Swyte. Ad esempio, se il testo è stato recuperato da Facebook, apparirà questa icona. Clicca sull'icona dell'occhio per decidere se mostrare o meno il testo sul sito. Infine clicca sulla spunta per salvare le modifiche eseguite al testo. E poi clicca su Salva per confermare tutte le modifiche. Swyte è un sito web responsive. Le operazioni mostrate in questo video puoi eseguirle anche da dispositivi mobile.